Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Quest'oggi ci occupiamo di motori, di Made in Italy e di una storia che è poco nota, però probabilmente tra alcuni di voi, soprattutto tra gli appassionati di automobili, forse è già conosciuta. È la storia di come nacque il celeberrimo marchio di automobili di lusso Lamborghini. Bene, dovete sapere che Ferruccio Lamborghini, il celebre fondatore della ditta, si dedicò alle macchine da corsa per ripicca, per vendetta, diciamo così, ma adesso volto a spiegarvi meglio. Fin da giovane, questo ferrarese di buona famiglia era un grande appassionato di motori. Aveva avuto modo di dare sfogo a questa sua passione, addirittura anche durante la guerra, quando era stato chiamato militare e si era occupato delle riparazioni di un parco auto militare, appunto a Rodi, nel dote cannesio italiano, e appunto era un grande esperto soprattutto di camion militari, si era specializzato in questo settore durante la guerra, riparazioni, eccetera, eccetera. Nel 1946, finito il conflitto, tornato a casa appunto nella sua provincia di Ferrara, pensò di soddisfare il grande fabbisogno di trattori della zona, chiaramente una zona a enorme vocazione agricola, e trasformando appunto i camion militari che tanto ben conosceva e sapeva anche dove andarsene procurare, anche perché nella Pionua Padana moltissimi erano stati appunto abbandonati durante la ritirata degli ultimi mesi di guerra dagli itali tedeschi, appunto che se passavano il po' e incalzati gli angloamericani, e quindi trasformazione di camion militari in trattori agricoli. Boom della ditta, Lamborghini, produttore di trattori, praticamente egemone in quella zona della Pionua Padana. e appunto già di buona famiglia, ditta comunque in grande crescita finanziaria, decide di togliersi qualche sfizio, e quindi va nella vicina Modena a prendersi due Ferrari, dalla neonata, se possiamo così dire, un po' esagerata, però comunque era una ditta ancora giovane, dalla neonata Ferrari appunto di Enzo Ferrari. e c'è un problema, una di queste auto, una volta portate a Ferrara, ha dei problemi alla frizione, e ha dei problemi, tipo meccanico, Lamborghini cosa fa? Si tira sulle maniche, controlla il motore, controlla tutto l'assetto, e sistema il problema. Però dice, ascoltami, ho speso una barca di soldi per queste macchine così rinomate, così di lusso, eccetera, e adesso vado anche a dire, tanto sono qua, un Ferrari a Modena, non è che sia poco così distante, e va appunto a lamentarsi personalmente con l'ingegnere Ferrari. e quello, che notoriamente era un caratterino, gli risponde, va là, va là Lamborghini, e dice appunto, guardi, ingegnere Ferrari, io ho avuto questo problema con la sua auto, ma ho saputo lo risolvolo, ecco, ho fatto così, così e cosà, e quello appunto a Musodoro gli risponde, magari anche addirittura in dialetto emiliano, Lamborghini, te pensa ai trattori che alle macchine a corsa ci sappiamo ben pensare a noi. Lamborghini, ovviamente, beh, che l'abbia presa poi benissimo. Vedi cosa fa? Dice, ah sì? E voi della Ferrari siete l'unice a saperne di auto di lusso? E di macchine da corsa? Benissimo. Allora io metto una Ferrari e converto la mia ditta, da fabbriche di trattori a industria appunto di auto da corsa e di un certo livello. Ah, quella Lamborghini appunto, come la conosciamo oggi insomma, sta rinomatissima, eccetera, eccetera, e come sempre amava raccontare quello che poi sarà il cavaliere del lavoro Lamborghini, con un sistema di meccanici che è tuttora di livello altissimo. Il cliente della Lamborghini, ovunque si trovi, questa è proprio una politica dell'azienda, ovunque si trovi ha diritto a telefonare, ha un problema con l'auto, ripeto, in qualsiasi punto del globo che adesso si trovi, riceverà a domicilio un meccanico Lamborghini specializzato che gli sistemerà la cosa e perché appunto mica tutti possono essere come Ferruccio Lamborghini che i guasti se li sistema da solo. Bene, quindi questa è la storia che vorrei raccontare. Vi ripeto, forse questa è tra le varie storie che ho raccontato quella un po' meno misconosciuta, un po' più nota. Però, spero comunque di avervi sorpreso, di avervi straffato un sorriso magari con i toni del racconto. Vi ringrazio di avermi seguito anche oggi, vi raccomando come sempre di, se i video vi interessano, di lasciare un like, di iscrivervi al canale per i miei miei sempre aggiornati, vi lascio come sempre in descrizione il link che vi porterà ai vari miei profili social, pagina TikTok, profilo Instagram, profilo Instagram e canale, questo stesso canale YouTube. Vi ringrazio ancora, ciao, a presto.